La Chiesa celebra la memoria di San Francesco di Sales, vescovo del XVI secolo che per la sua modalità di annunziare l'Evangelo, mediante scritti e omelie, è stato proclamato patrono dei giornalisti. Per l'occasione, l'Ordine dei giornalisti della Campania e l'Unione della Stampa Cattolica Regionale hanno organizzato un corso di formazione all'interno della Curia Diocesana circa la deontologia e l'informazione religiosa. Prima dell'intervento del Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, Don Tonino Palmese, direttore dell'Ufficio Giustizia e Pace dell'Arcidiocesi, partendo dai discorsi di Papa Francesco, ha spiegato la comunicazione ecclesiale nell'ottica dell'annuncio della buona notizia di Gesù Cristo, crocifisso e risorto, con particolare riferimento alle condizioni degli ultimi della terra. Il Cardinale Sepe ha parlato della famiglia, tema scelto dal Pontefice per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, prevista per il 17 maggio. È assolutamente fondamentale perché in realtà noi viviamo in un mondo di comunicazioni ed è una realtà che prende poi tutti. Il Papa ha dedicato questa 49esima giornata mondiale delle comunicazioni alla famiglia, ma appunto perché dai bambini, dai giovani, dagli adulti, dagli anziani e tutte le categorie sociali di fatto sono oggetto di questa notizia che ogni giorno viene e entra non solo nelle case, nella società, ma entra nella mente e nel cuore di tutte le persone. Per cui comunicare, comunicare bene, comunicare cristianamente per i giornalisti cristiani, questa è una missione che richiede tanta professionalità e quella c'è, ma anche tanta enorme responsabilità per ognuno che non può non guardare a comunicare la verità secondo tutti quei carismi etici, morali, eccetera, che sono parte essenziale della stessa professione giornalistica.